E so al lato artobosso, so guardando a destra, so guardando a sinistra e poi Luista. Sì, so, davvero, ma Sancho, Sancho, sei bravissimo, sei bravissimo, ma come racconti bene, le cose, le racconti benissimo, e senti Sancho, lo sai che si direbbe addirittura, addirittura che hai studiato? Ma Sancho, e pensa che Sancho manco leggi. Grazie, però, Luvide, sta facendo notte, sta assorgendo la luna. E io, e io ho bisogno di sognare, e tu però fai la guardia. Grazie. Grazie. Sì 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 Da chi siamo? No, ti sei. Sì, sì. No, tutto. Là chi sta un signore che si foglia ma. Lo cavaliere dalla Bianca Luna. No, ti sei. che ha detto una cosa, che è venuto qua per comparare la forza del suo bravo. Perché è venuto qua pure per un'altra cosa e ha detto che secondo lui la sua dama di lui è più bella della sua dama di lei. Se, sei da! Che fordite! L'amiglio! La dama di lui, la dama di lui, di lei, di chi è? Di lui? Ha detto che è più bella della dama di lei, sei da! La dama di lei, che dame ci sono? Quante dame ci sono di là? Ma come buono? io penso che sarà sola lui c'è due stanno là due stanno dentro là due cavalli un cavaliere e una dama due sono di là e due siamo di qua io e te io non c'entro niente tu e direi zitto cancio sta parlando zitto c'è i dulcide la tua dama è migliore della mia dulcide non sto parlando in questi casi sai che non devi imparare che ci vuole molta classe eleganza per affrontare i cavallieri vieni qua vieni qua ora ti insegno come ci si comportano dei cavallieri come si chiama? lui? la bianca luta la bianca luta tre passi poi ci presentiamo guarda 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 cavaliere dalla bianca luna cavaliere delle cui imprese non ho mai sentito parlare vivello io vi farò giurare di non aver mai veduto la mia durcinea perché se, e sottolineo, ma Sancio, Sancio, sì sottolineo, sì no, 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 no se, e sottolineo, se, l'aveste vista l'aveste vista no, dico, se l'aveste vista dice, se l'aveste vista non mi avverdereste mai a dire che il suo aspetto il suo petto no, Sancio, aspetto, no, petto aspetto, che il suo aspetto il suo aspetto non è migliore di quello della mia Dulcinea perché non ci fu non ci fu nemmai potrebbe esservi nemmai potrebbe esservi senza esagerare nemmai potrebbe esservi nemmai potrebbe esservi una dama migliore della mia Dulcinea grazie pertanto dicendovi non già che mentite ma che vi sbagliate di grosso grosso più grosso più grosso ancora più grosso grosso scelò ma accetto la vostra sfida